In una settimana in una settimana ... 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 un cento. Ma io non mi dà quanto per lì, se no chi è arrivato a fare un cento con un professore è arrivato piano a fuoco, io ci accoglio piano a fuoco, ma non vedo un po' il mondo che ero da sotto, ti dico qua con il rettangolare che pampaccio, ma i soli, no, fino a quattordicesimo, o quattordicesimo, se no non ti preoccupare, svolta la squadra qui si può te, ah si è qua te pan. Non me va, siamo a me nel tuo palazzo e vi ho vedere la saperlo, proprio porta a me, e mi guarda, si arrivano dal dicesimo a me, andate con un bichetito scendendo a te, come ti ho fatto, perché... faccio la r Corner dire, se un boro è andata a mano a me, se te prego un bichetito a di una maggiore, perché sono di prima ospite, a me c'era la pan, che sono saputa, e a me Cala me, che è di spattare da bala!